Questo programma è offerto da MEC Solution Olio basso, fedele nel gusto Neuromed Lloyd's By Hotel, vietri sul mare Design in luce Emporio del caffè Quelli che si preparano alla campagna elettorale per il comune di Avellino Dovrebbero cogliere come una occasione La relazione predisposta dal subcommissario Franco Ricciardi Che accompagna il piano pluriennale di riequilibrio Otterrebbero utilissime informazioni Su come far quadrare i tentativi di mettere insieme delle coalizioni E guadagnerebbero anche qualche dritta Sull'identikit di chi deve rappresentarle e guidarle Da candidato sindaco I numeri sono noti Buona parte del deficit ruota intorno ad una macchina comunale Che riesce a malapena ad incassare Tra il 25 e il 30% delle entrate Una parte consistente dei 17 milioni di disavanzo Deriva proprio da questa inerzia Che a sua volta trova origini in cause Sia storiche che più recenti Professionalità di vecchia formazione E il blocco delle assunzioni per anni Sono quelle più evidenti Insieme a politiche generali Sulla finanza locale Che hanno finito per strozzare I comuni italiani Soprattutto nel mezzogiorno Obbligati a rispettare standard stringenti In presenza di minori trasferimenti di risorse Il piano di riequilibrio Ha un tempo massimo di 10 anni Per essere portato a compimento Un tempo che Avellino non può permettersi Intanto perché più dura Maggiori sono i rischi di non uscirne Ma soprattutto perché Avellino Non può consentirsi un'altra lunga stagione Nel limbo anche psicologico dell'emergenza Quella lunghissima del dopo terremoto Per l'eredità che ancora consegna Dovrebbe insegnare qualcosa Sentiamo già le prime parole d'ordine Della prossima campagna elettorale Molte delle quali inseguono retoricamente il passato Quasiché collocandolo sul banco degli imputati Risolva i problemi Quando sarebbe invece necessario Sentire chi spiega come si bruciano i tempi Per rivedere alla portata Uno spiraglio di futuro La sfida tra vecchio e nuovo Serve a fare un po' di baldoria elettorale Quella che Avellino merita È tra la competenza e l'incompetenza Se non si riparte da qui Tutto il resto è inutile grasso che cola Vecchio e nuovo che da stamattina Da Avellino si sfidano anche sui manifesti Come era accaduto d'altronte Nella precedente campagna elettorale L'immagine di Mancino e Demita Padroni occulti del centro-sinistra Attrazione PD Rappresenterebbe lo spartiacque Chissà quanto vero Chissà quanto presunto Anche di questa campagna elettorale Vogliono eleggere un sindaco Che dipende da loro e non dai cittadini Questo è il messaggio Lo stesso in sostanza Che accompagnò la candidatura di Nello Pizza Vecchio e nuovo Passato e futuro Anche di questo stasera parleremo con i nostri ospiti Con i quali intanto intendo condividere il dolore Per la scomparsa Ad appena 58 anni Giandonato Giordano Consigliere provinciale Già sindaco di Guardia Un amministratore Un politico colto e trasparente Oltre che un amico e custode Della sua e della nostra alta Irpinia La moglie Nadia I figli Alessandro e Gaetano La nostra affettuosa vicinanza Bentrovati a studio sera In diretta Benvenuti ai nostri ospiti Giuseppe Carillo Lavora al Dipartimento di Diritto Economico Management e Metodi Quantitativi dell'Università del Sannio Ma è qui perché Nella sua precedente vita È stato segretario Del Partito Democratico della Sinistra Il PDS Ben trovato Elio Iannuzzi Docente all'Università di Salerno Benvenuto a Luigi Anzalone E ben trovato al Direttore del Quotidiano del Sud Gianni Festa Il vecchio e il nuovo Il passato e il futuro Come dovremmo cercare di avvicinarsi a questo tema Che sembra essere di nuovo dominante Nella prossima campagna elettorale Voi siete persone molto autorevoli Anche abbastanza distaccate Per aiutarci a capire E a districarci In questo che probabilmente diventerà L'ennesimo tourbillon Partirei proprio da Gianni Festa Che nella seconda parte non ci sarà Perché è impegnato anche altrove Quindi Gianni Festa come faremo a discernere Oppure affogheremo tutti quanti In una retorica alla fine senza costrutto Se poi i problemi di Avellino Sono quelli a cui abbiamo appena accennato E intanto io mi voglio associare subito Al ricordo commosso e affettuoso Per la scombarsa di Gian Donato Giordano Una risorsa molto importante Dal punto di vista umano Dal punto di vista intellettuale Dal punto di vista di servizio Per l'alta Irpinia Alla famiglia Le mie condoglianze Il panorama che si presenta da Avellino A mio avviso è avvilente Perché le tattiche Le ambiguità I giochi sporchi Tutto quello che ho avuto modo di scrivere Anche sul mio giornale Sono alla ribalta Mentre invece di programmi Di città Di bene comune Di solidarietà Di legalità Non si parla Questo è un limite Che purtroppo Rischia di far affondare La città Nel degrado Ancora di più di quello che è Ed evidentemente Il problema è di classe dirigente Noi avevamo delle risorse Io al mio fianco Professore Anzalone Che ha fatto un'esperienza enorme Straordinaria Assessore al bilancio Nella regione Campania Nei momenti e nelle ore In cui c'era da decidere Qualcosa di molto importante È stato presidente Della provincia Ha un suo carattere Anche ostile alle cose retoriche Per esempio E poteva essere una risorsa Su cui puntare E parlare di Avellino Come doveva essere Ma ho citato Anzalone Perché lo vedo alla mia destra Anche per affetto comune Ma dico che Questa campagna elettorale Sta diventando una cosa Abberrante Le ambiguità Io sento dire che Per esempio Il dato che Accomuna La mancanza di discussione Sul programma della città E il ruolo che sta svolgendo La regione Noi nel bene e nel male Avevamo una classe dirigente Di tutto rispetto Si poteva criticare Si poteva Come dire Riconoscere anche i limiti Ma avevamo una classe dirigente Che era irpina Oggi Gli irpini sono Gli invasori Governatore De Luca Della regione A cui piedi Si sono incinocchiati Tutti i consiglieri Regionali irpini E l'altro Il Sannita De Caro Che non ha i numeri A mio avviso Per poter dire qualcosa In Irpinia Dove le intelligenze Quelle vere Restano mortificate Ecco Il professore Annuzzi E il professore Annuzzi Ha avuto una Anche fervida Militanza Socialista Erano i tempi Della prima Repubblica Al Al termine Quasi Della quale Quel periodo Quella fase Venne caratterizzata Dallo scontro Durissimo Tra alleati Come peraltro Sta accadendo Oggi Craxi Demita Eccetera Ecco Professor Annuzzi Questa sorta Di esorcismo Nei confronti Del passato Ha Una qualche Ragione Ancora Di Essere È un Argomento Da campagna elettorale I tempi sono diversi Allora Ero molto giovane Divenni consigliere comunale Di Avellino Quando avevo poco più di 30 anni Quindi È un'epoca storica Quasi Che è passata E Lo spessore degli uomini Ricordo Frequentavo Il consiglio comunale Quando era sindaco Nacchettina Aurigemma Mio carissimo E fraterno amico Mai Dimenticato E Andavo a sentire I dibattiti In consiglio comunale Ma Insomma Il livello era Elevatissimo C'era Ciriego De Mita Maglio Rossidoria La sinistra dei professori Insomma Di che parliamo? Era un parlamento Subalpino Con Diciamo Con Presidente Cavour Era tutta una situazione Che impressionava La qualità Del dibattito Quindi Ci si appassionava La politica Dico come Questi uomini Che sono parlamentari E poi vengono qui E fanno questi dibattiti Mi innamorai Della Della vita politica Quindi non me ne perdevo Una Praticamente Si parlava di cose elevate E poi si facevano anche cose Abbastanza intelligenti La città era ordinata Con le sue Con le sue Strate pulite Con le sue Ciese Le sue caserme Il corso Elegante Con Molti ristoranti Si cominciava a parlare Di urbanistica In modo più moderno Quindi c'era tutta Una realtà In divenire Fare Un parallelo Tra Rinascimento E decadenza Non Ecco Professor Anzalone In fondo La lotta Tra il nuovo E il vecchio Tra passato E futuro È insomma Un cardine Del mondo Delle attività umane Di come si sta il mondo Anche Per la politica È così Che cosa dovremmo Riuscire Invece A distinguere meglio Per non cadere Nel banale esorcismo Nella banale retorica Che attribuisce Al passato Le responsabilità Del tempo presente Rispetto al quale Però non si dice Come Chiaramente Come affrontarle L'importante È che il passato Sia bene in vista Sul banco Degli accusati Cosa dovremmo Discernere Perché insomma Al di là Dei dibattiti Molto interessanti Della caratura Delle personalità A cui faceva riferimento Gli annuzzi Beh quelle politiche Non sempre hanno prodotto Come dire Cose strepitose Diciamo Anzi ci hanno lasciato Ancora qualcosa Che stiamo forse Ancora pagando Come distinguere Un po' Dentro questa Mi conseda Direttore innanzitutto Di associarmi Con commozione Nel questo momento A quello che ha detto Il direttore a festa Sulla scombarsa Di Giandonato Sapevamo Che un male crudele Lo aveva germito Ma che lo avrebbe Travolto e stritolato Nel suo fauci In così Breve tempo Non lo prevedevamo Peraltro io Ho avuto modo Di fare con lui Più manifestazioni Di carattere letterare Culturale Qualche volta anche Allietate da Un momento conviviale Serale Sono molto turbato Ringrazio Ancora festa Di sincero cuore Per quello che ha Voluto dire Della mia persona E Chiudo qui So soltanto Di aver fatto sempre Con assoluto onore E ancora maggiore onestà Il mio dovere Per il popolo La domanda che lei mi pone Come si risponde Al problema della dialettica Passato presente In astratto La divido così E in concreto Cioè Nella mediocrissima Situazione cittadina In astratto Il passato Spesse volte C'è un grande Filosofo Ma lei pensa Gravito di futuro Cioè un passato Che non è Totalmente passato Altre volte Altre volte invece Si accompagna Ad un gumolo di macerie Una valle delle ossa Quindi Ci vuole un pensiero critico Nel Giudicarlo Il presente E il nuovo È Prevalente Sul passato Perché Ha dalla parte sua Il fiore della gioventù Ma spesse volte Il nuovo può essere Più vecchio Del peggiore vecchio Quindi ancora una volta Bisogna Scendere dal Cielo delle categorie Inconcludenti E confrontarsi Con le realtà Concrete Con le persone In carne ed ossa Precce Viti Fetti di fe Nella vicenda Vellinese Due cose O concluso Balzano Agli occhi Con strepitosa evidenza C'è un passato Lo ricordava Iannuzzi Lo ricordava Poc'anzi Festa L'ha ricordata anche lei Direttore C'è un passato Luminoso Di dialettica Politica E di potenza Plurale Del pensiero Da centro A destra A sinistra Era un piacere Io facevo il corrispondente L'unità Ero Gianni Cominciava anche lui Ma sta un po' più avanti di me A fare giornalisti Ma in realtà noi ci divertivamo E apprendevamo Nell'andare a sentire Una specie di Caputino Palazzo Per un dei dibattiti Io non voglio mancare Di riguardo a nessuno Ma se c'è un giovane Che Dice Io vado ad ascoltare Il dibattito In consiglio comunale Così apprendo Diciamo Da 10-15 anni A questa parte Questo giovane È da TSO Francamente E non E non vedo eccezione Quindi passata A un'eredità Cultural Propositiva Forte Molti momenti Di decadenza Il presente Che cosa ci presenta? Il peggio del passato È nulla Rien Mi si faccia un nome Altrimenti Un'indicazione Che sappia Di continuità E di rinnovamento Di sviluppo Rispetto a quanto Di positivo Di intelligente Di innovante Ce ne è passata Giuseppe Carillo Quanto c'è Di artificioso In questa Perenne sfida Che in campagna elettorale In qualche modo Anche ad Avellino Si ripete Con una frequenza Molto Molto ripetitiva Con argomenti Anche Abbastanza Abbastanza Scontati Abbiamo detto Accennato Anche stasera Alle condizioni Del comune di Avellino Insomma È una situazione In cui Prima ancora Che colpe Bisognerebbe Ricercare i rimedi Oggi Abbiamo detto Che insomma Abbiamo bisogno Di medici Che non ti spiegano La malattia Ma che sanno Come curarla E questo Il primo punto Dell'agenda Che dovrebbe avere Una coalizione Un partito Chi si candida Insomma Dunque Anch'io Incontrando spesso Per Napoli Dove lavoro Non a Benevento Dove ho conseguito Il dottorato di ricerca Insieme a Giandonato Spesso Discutavamo Della fine Della politica Della tristezza Giandonato Ha scritto anche Lettera Sulla politica Quindi avevamo Questa malinconia Comune Sulla questione Della politica Dunque Dovendo Anche Semplificare Richiamerei Anche Il recente Decesso Del professore Francesco Saverio Fest Che Per quanto Mi riguarda Rappresentava Un modo Di essere Città Alternativo Questa Povertà Quasi Monastica Unita Ad una grande Capacità Di studio Di riflessione Di intrecci Anche Ben oltre L'Italia Anche In termini Diciamo Europei Questa è la città Che dovrebbe Vivere Nella politica Nella scienza Nell'amministrazione Chiudo Diciamo Questo giro Di interventi Ponendo A me stesso Ai cittadini Che ci ascoltano E ai miei interlocutori Di questa sera Un tema Il tema Assumendomi Dico subito La responsabilità Per la parte Che mi compete Di ciò Che non ha funzionato Nella politica Che abbiamo Alle spalle Ma Se la politica È finita E se in 25 anni Per esempio L'area politica Del centro-sinistra Che si richiama Le tradizioni A cui si faceva Riferimento Per le presenze In consiglio comunale È quasi scomparsa Ovunque Dovremmo tirarne fuori Perché la politica Senza una valutazione Dei fini Senza una valutazione Di cosa ha conseguito In termini di risultati È un giudizio Abbastanza infondato Su cosa si poggia Noi siamo a questo punto Per i gravissimi errori Che da un certo momento In poi La politica Ha compiuto E segnatamente La politica Di ciò che era La DC E di ciò che era Il PC E la sinistra E la comprensione Di che cosa è accaduto Oggi più facile Per il fatto Che sotto i nostri occhi Si squadernano I limiti relativi Alla crisi economica Alla crisi istituzionale Alla crisi sociale Ai valori del mezzogiorno Oggi Che tutti i protagonisti Di questi 25 anni Per i ruoli che hanno avuto Sono di fronte al disastro Beh, la discussione Non può essere nostalgica La discussione Soprattutto per chi ha avuto ruoli Di varia natura Deve essere Dove abbiamo sbagliato E dal mio punto di vista Questo è Il massimo contributo Che una classe dirigente Che ha i capelli bianchi Può dare ai giovani E questo è il contributo Che dobbiamo dare Senza Nascondere la verità Dei fatti E qual è Secondo me Il punto L'approdo Dal quale io Personalmente Parto E che noi Non abbiamo capito Nulla Dell'avanzare Di una crisi Del modello europeo Che porta Oggi A vedere A rischio Anche i valori fondativi Dell'Europa Ecco, ma intanto Gianni Per stare Alla condizione Di Avellino Se il quadro È quello che voi Descrivete Forse qualche domanda Devono farsi Dobbiamo farci Anche chi Indirettamente Partecipa Contribuisce Al discorso pubblico I giornalisti Gli insegnanti Gli intellettuali I docenti universitari In che cosa Come dire Anche noi Siamo riusciti A portare All'attenzione Di queste classi Dirigenti Molto fluide Molto confuse A volte anche Molto raffazzonate Che Vanno ciclicamente Componendosi E scomponendosi Qualche problemino Forse ce l'abbiamo Dobbiamo Dobbiamo Riflettere Dobbiamo Riflettere Anche noi Voglio dire No io credo Che il nostro Mestiere La nostra professione È profondamente Cambiata Le schiene dritte Sono poche Le riflessioni Che dovremmo fare Non le facciamo Corriamo O si corre Io non sono Fra quelli che corrono Dietro gli slogan Di maniera Le impressioni La battuta Non è più Il tempo Della riflessione Le cose Che sono state dette Da Anzalone Tonino Carillo E Iannuzzi Appartengono Ad un periodo Ad un'epoca In cui La riflessione E il pensiero Contribuivano A dare Contenuti Anche A chi Ascoltava Oggi Oggi Invece Non ci sono Persone Che parlano Ci sono Persone Che blaterano Che dicono Cose diverse Che pensano Alla gestione Se il pensiero Non c'è Se la cultura Non anima Le azioni Che mettono In campo La riflessione Su una città Devastata Come la nostra Allora Noi siamo Responsabili Di tutto questo Perché andiamo Ad inseguire Cose fatue Inutili E non A invitare Le persone A ragionare Noi dovremmo Farlo Io Molta umiltà Molto modestamente Tento di farlo Attraverso Per esempio Il recupero Della memoria Perché noi abbiamo Una grande memoria Nella nostra provincia Non solo Di classe dirigente Ma di punti Di riferimenti Importantissimi Che potrebbero guidare Una società Al cambiamento Il cambiamento Oggi Lo dice 5 stelle Ma qual è? Quello che è fallito In 5 mesi Per incompetenza In congruenza In capacità Di scrivere Una delibera Noi dovremmo Cominciare Dall'alfabeto Per ricostruire Questa città Ecco Ci dobbiamo fermare Per una breve Una breve pausa Riprendiamo Tra pochissimo Entrando anche Nel merito Concreto Dei movimenti Che sono in corso In queste ore Gli incontri Dei partiti Oggi doveva Esserci quello Del centro-sinistra Targato PD La riunione È slittata In attesa Di un nuovo Incontro Che verrà proposto Domani Dal movimento Si può E lo slittamento Della riunione È stato sollecitato Dal fatto Che forse Da questo incontro Di domani Potrebbero venire Aperture Che finora Non ci sono state Da parte Di quel mondo A sinistra Del centro-sinistra Diciamo così Tra poco In diretta La seconda parte Di Studio Sera Con Giuseppe Carillo Elio Iannuzzi Gino Anzalone Gianni Festa Come avevamo preavvertito Ha lasciato i nostri studi Perché impegnato In un altro Concomitante Appuntamento Di lavoro Ripartirei Per chiudere La fase Diciamo così Della comprensione Della distinzione Che può aiutare Forse In questa fase Anche ad Avellino Tra vecchio e nuovo Tra passato e futuro Chiuderei Con Questa parte Con Gino Gino Anzalone Nel senso Di Insomma Quando Quando diventa Una scorciatoia Per non dire E non fare Quello che bisognerebbe Invece fare Il conflitto Sparato Tra vecchio e nuovo Tra passato e futuro Ma per la verità Se in politica Segnatamente Nel centro-sinistra Ci fossero qualche dimestichezza A leggere qualche libro Diversi di loro Li vedo più Diciamo Adusi ai libretti di banca E quant'altro Terrebbero presente Una lezione Molto importante Che Machiavelli Dà Sulla politica Credo che Machiavelli Sia un teorico Abbastanza importante E anche abbastanza Attuale Quando Machiavelli Si pone Il problema Di come costruire Una classe dirigente Per buon governo Di una città E parla Dei corpi misti Vale a dire Quella sapiente capacità Di mettere insieme Esperienze D'ardimento Coraggio E intelligenza Cautela E innovazione Che poi Spesse volte Ma non sempre Si identificano Anche fisicamente Nella diversificazione Generazionale Con Occorre sottolinearlo Una Accentuata Propensione Per il nuovo Per il giovane Per le donne Per tutto ciò Che è Propulsivo E infuturente D'accordo Quindi Il manicheismo Che non soltanto Sa di stupidità Ma è anche Il ponte degli asini Con la loro Malafede Tutto giovane Tutto vecchio Non porta da nessuna parte Anche perché La condizione Di Avellino È conclusa È così penosamente Drammatica Dal punto di vista Finanziario Dal punto di vista Dello Stato E della città Che Uno sforzo In cui ci si mette Un po' di generosità Non è fuori luogo Sendo È concluso Per davvero Parlare di unità Del centro-sinistra Ma la politica Dal maggioritario In poi Dimostra Che Spesse volte L'addizione Delle Cifre Delle sigle Nel nulla Diventa Sottrazione Quindi Non importa Quante sigle Si mettono Insieme Importa invece Quale idea Importa I grammesciani Costumi Importa la credibilità E la capacità Delle persone Vi faccio vedere Vi faccio vedere All'inizio Nella comparsa Di manifesti Stamattina Che insomma Inaugurano Ancora di più L'avvio Della campagna elettorale Di questi manifesti I famosi Sei per tre Che sono Comparsi In città Insomma In questa foto L'intento È quello Di mettere Anche Fotograficamente No vediamo Non vediamo Le macchine Vediamo la foto Fermiamola proprio Mettono Eccola qui Mettono Fotograficamente Al muro Diciamo così Il passato Se per passato Intendiamo soprattutto Nicola Mancino E Ciriaco De Mita Che cosa ci serviranno Questa volta Il messaggio È Vogliono un sindaco Faranno un sindaco Vogliono eleggere Un sindaco Che stia Ai loro comandi Che stia A loro disposizione Non a disposizione Dei cittadini Adesso Il messaggio Ci manteniamo ancora Su un profilo Appena appena Sufficiente Di civiltà Non penso Alle vede Ma insomma Quando accadono Queste cose Professor Giannuzzi Quando come dire L'avversario È messo al muro Sia pure Per richiamare Una storia Contestata E contrastata Eccetera Che vuol dire Ma insomma Io Non sono Un esperto Di comunicazione Probabilmente Questo è Il frutto Di una Studiosa Di comunicazione Che ha pensato Di Poiché Quello che Accadua È un argomento Che rende Può rendere Può rendere Indubbiamente È una discontinuità Rispetto alla mediocrità Che abbiamo conosciuto Soprattutto Nell'ultimo anno Insomma Cioè Questi proponevano Questi che sono venuti Poi Non hanno proposto niente Tant'è Che si sono arenati Sulla Sulla prima Spiaggia libera Insomma Quindi E questa È la gravità E la differenza Pure Però Ci sta pure Un'altra cosa Valutazione Che dice Una cosa importante Con i cavalli Del passato Ancorsché Importanti Non si monta Un colpo Di cavalleria Noi abbiamo Un drammatico Bisogno Di classe Dirigente Benedetto Croce C'è l'amico Filosofo Che Mi potrebbe Insegnare Qualcosa In materia Benedetto Croce Diceva Dice Perché Il pensiero È sempre Contemporaneo Che La vera cifra Della politica Non è tanto L'onestà Quello È un presupposto È un exante La vera cifra Della politica È la competenza Dice E fa l'esempio Di un medico Dice Chi di voi Si lascerebbe Operare Da un medico Onesto Scrupoloso Eccetera Però Non qualificato Oppure Da un Faceva il nome Di Gardarelli Da un docente Burbero Però Qualitativamente Capacissimo L'opzione Per la persona Qualificata È capacissima Quindi Di che parliamo Ecco Prima Prima di Proporsi E qua È venuto meno Il partito politico Nella storia mondiale Lo dicevano I grandi Sociologi Tedeschi Tra la prima E la seconda Guerra mondiale Max Weber Sombart Eccetera Che il partito politico È lo strumento fondamentale Dell'attività politica Questo non l'ha capito Berlusconi Pensava di poter fare Un partito Senza organi Rigorosi Il partito Anticipa E Come dire È l'intellettuale Oggettivo Che Coordina E dirige E forma Una classe dirigente Qua È il problema Che nelle università L'università di massa Si studia poco Non molto In ogni caso La selezione È modesta E questa È una cosa Che ho constatato Per un quarto di secolo Nei partiti politici La stessa Lo stesso impegno universitario Che è un'attività Professionale Specifica Su una disciplina Quindi non c'è La formazione Di classe dirigente Ogni tanto Forse è rimasta Solo la Lega Addirittura Che fa Che fa la formazione Di classe dirigente Per la verità Sono quelli Che oggettivamente Anche per quello Che dicono E talvolta propongono Spiace dirlo Hanno argomenti Più concreti Più operativi Tant'è che le regioni Che funzionano meglio Sono quelle del nord Perché già hanno Una classe dirigente diffusa Ma quelli Che ha proposto La Lega Le ha formati Negli anni Hanno fatto Tutti una carriera Quelli che Improvvisamente Divendano Divendano Principe Tosto ruinano Diceva Machiavelli O Guicciardini Non mi ricordo Chi dei due Non vorrei Fare Una sfasatura storica Mi ricordo Il concetto Che è quello Che rileva Carillo Ma insomma Resuscitare Come Tema di attualità Diciamo così I destini Di un'amministrazione Intorno A figure E personalità Storiche Della politica Anche in provincia Di Avellino Ha ancora Molto senso O no? Guarda Il manifesto Dal punto di vista Della sua Significatività Storica Validissimo Ed è Suggestivo E rappresentativo Di che cosa è stata Quello che dicevo All'inizio La tendenza Tal quale Del centro-sinistra Mettiamo assieme Tutti Ci sono Infatti Oltre i soliti citati Mancino e De Mita C'è anche Una categoria Particolare Di In questo caso Di donne Di sinistra Che Hanno pensato Di risolvere Il problema Facendo Centro-sinistra Mettendo insieme Tutto quello Che c'era Dal punto di vista Comunicativo Io credo Che quel manifesto Non abbia più Al consenso Perché È archiviata Diciamo La questione Del centro-sinistra Archiviata Le regionali Recenti Lo dicono Lo dicono I sondaggi La questione Centro-sinistra Individa Un responsabile Che non c'è La questione Centro-sinistra È archiviata Ora Qui si tratta Di ragionare Un attimo Come Il buon senso E la storia Ci insegna Dal mio punto di vista Sull'attuale Faglia Nella quale La sinistra È incagliata Questo è il punto L'errore tragico Di chi oggi Si sta cimentando Direttamente Con la politica Vista dal versante Del centro-sinistra È presto detto All'armo Sulla destra Che arriva Cinque stelle In lega Sono definiti Di volta in volta Fascisti Nazifascisti Destra E unisco Tutto quello Che si deve battere Contro la destra Per una nuova Grande resistenza Democratica Questa Decisione Diciamo così Di quelli che Nel centro-sinistra Cercano di fare Politica È sbagliata Io Non la condivido E credo Che sarà Una soluzione Che porterà Allo sfascio Del centro-sinistra Ulteriore Perché bisogna Dare atto Sì Al movimento 5 Più ancora Al movimento 5 stelle Che alla Lega Che pure resta Un movimento Che il buon D'Alema Definiva Una costola Della sinistra Quando è nato Che con il loro Modo semplicistico E senza grandi Prospettive Pluriennali Affrontano i temi Che la gente Vede Tutti i giorni Di fronte a sé Ora Io vorrei dire A tanti miei compagni Anche Ex compagni Alla sinistra La questione Del rettito Di cittadinanza Dovrebbe essere Appellata Come una cosa Di destra O la questione Del no Tav Dovrebbe essere Appellata Come una questione Diciamo Contro l'economia Che Insomma Tutto quello Che sta accadendo Caro Norberto Mi suggerisce Una cosa E chiudo Che Quello che io Ho detto all'inizio E cioè Che noi Non abbiamo capito Più niente Da un certo momento In poi Della relazione Tra Economia Istituzioni Economia Essenso Dell'Europa Della globalizzazione Dei effetti Sulle istituzioni Quello che noi Non abbiamo capito Da metà degli anni Settanta In poi Ancora Resta L'elemento Sul quale Si fonda La crisi Delle forze Democratiche Di sinistra Per quanto mi riguarda Di sinistra Per stare A noi Gino Anzalone Insomma Si susseguono Le riunioni Non c'è Alcuna Quadra Che si intravede All'orizzonte E comunque Questo orizzonte È ormai prossimo Perché il 27 Scadrà il termine Per presentare Liste E candidati Il centro-sinistra Così detto Si è diviso In più In più In più Parti Quello che fa riferimento Alle iniziative Assunte Dal Partito Democratico In sostanza Sta per diventare Una sorta Di referendum Su quale alleato Scegliere Se cioè Scegliere In questo caso Luca Cipriano O se Scegliere I popolari Di Demita Nel frattempo La sinistra Si è tirata fuori Perché dice Voi con questo metodo Non ci portate Non andiamo Da nessuna parte Questo vale Per la sinistra italiana Si può E vale anche Per l'associazione Controvento E non solo Da questo punto di vista Che Di che parliamo Quando parliamo Di centro-sinistra Qualunque esso sia Se in fondo La cosa è molto ridotta Ed è anche molto Personalisticamente gestita Tutto sommato Io penso questo Che ancora oggi Data la frandumazione Che esiste In un'area Che va Dall'antico Centro All'antica Sinistra Il Partito Democratico Ha un ruolo Di grande momento Che ad Avellino Svolge Nel modo Peggiore Sono Lo dico Con grande rispetto Un po' di scelio Dei veri e propri Platini Dell'autocollo Platini era un grande Giocatore Non devo dirlo Agli illustri Relatori Convegnisti Al direttore Quanto È il spettatore Più giovane Faccio La precisazione Perché Innanzitutto L'elettorato Di centro-sinistra Valuterà La credibilità La prestanza Del PD Ed è lì Che non ci siamo Cioè Non vedo Un discorso Critico Sul passato Che recuperi Quel che di buono Ci può essere stato E però Si faccia carico Di una grande innovazione Che Non per usare un termine Perlingueriano Appusato Ha a che fare Con la questione morale C'è la necessità Di un modo Nuovo Di governare Innanzitutto Moralmente Dopo quando riguarda Se ti rinvio Non ti rinvia Candelma Giudizio L'etica politica È più ampia Dopo Viene il discorso Delle alleanze Dove io non sono Neocumenico Anche se Per abitudine Per convenienza Quando diretto Lo sono stato Anche per opportunismo Dopo Tu proponi Un branzo Dovizioso Con commensali Degni A tutti Perché devi Escludere Cipriano Demito La sinistra Si escluda Non oro Si escluda Chi vuole Va a finire Che Ti capita persino Di andare solo E poi vinci Perché stai In compagnia Degli attori Ecco C'è anche da dire Il problema Non è la coalizione Che costruisci E tu chi sei Poi la critica Che viene Da sinistra Io la Mi permetto Di condividerla Molto In questo modo Che è fatto Di Come dire Di sigle E di nominalismi E di nominalismi Non andiamo a nessuna parte Il problema è anche questo Professor Giannuzzi Perché poi alla fine Si ha la percezione O almeno L'impressione Che tutta questa partita Anche quella Che si sta svolgendo Sotto i nostri occhi Che ha cominciato A muoversi Sotto i nostri occhi Si ha più E faccia più riferimento A persone Piuttosto che A soggetti politici Come si diceva Una volta E quindi Se si fa riferimento A persone Bisogna vedere Come stanno messe Quel giorno Quelle persone Insomma Diventa tutta Un'altra Traduzione Che la politica Sia decaduta Dovuto proprio A questo fatto Si ritorna Ai notabili In qualche modo Come Mondanelli Ha scritto Un bel libro L'Italia dei notabili Purtroppo si riferiva All'età giolettiana Dove La qualità Della classe politica Di allora Era tra le migliori Che abbia avuto La storia Italiana Però dico Adesso Tutti questi quadri Quest'alleanza Questi personaggi Minori Questi personaggi Da fattoria Degli animali Io direi Insomma Talvolta Perché Gente che parla A proposito A sproposito Più a sproposito Che a proposito Ma Avellino È una città Dolente Dolorosa Ci sono 2000 appartamenti Vuoti Non si vedono Più i giovani Se ne vanno tutti Nelle università Del nord A studiare Le università Meridionali Cominciano a perdere E anche a lavorare Vanno a studiare Primi A lavorare Dopo E quindi Noi L'investimento Lo facciamo come Intelligenza Lo facevamo come Intelligenza Quando studiavano E poi E poi se ne andavano Al nord Adesso Se ne vanno Direttamente Hanno rotto Anche il primo Anello Quindi è una situazione Drammatica Per una città Come Avellino Che ripeto Aveva C'era un tipo Di nuova industrializzazione È tutto passivo Un regolatore Che non ha consentito La possibilità Di concedere Una concessione Edilizia Insomma È ferma Perché poi C'è carenza demografica Oltretutto Quindi Il valore Degli immobili È caduto Anche esso Quindi È un circolo Vigiosa È la trappola Del sottosviluppo Che io vedo Attivo e presente Quello che gli economisti Del sviluppo economico Chiamano La trappola Del sottosviluppo Che se non interrompi Il sottosviluppo Con uno shock Violento C'è il mortale Abitamento Si fa come Quelle città Brasiliane Che dopo La scoperta Della gomma Nel secolo Fine Ottocento Ebbero Un grande Fiorire Poi cessò L'industria Della gomma Perché ci fu Quella sintetica E quelle città Manaus Si spopolarono E decadde Ecco Giuseppe Carillo Diceva che Per avere Dei Per avere I fari giusti Che ci orientino In questa fase Anche ad Avellino Sarebbe Nella sfida Tra vecchio e nuovo Capire intanto Che cosa E dove Si è sbagliato Negli anni E nei decenni scorsi Credo Che la soluzione Ammesso Che questa discussione Venga ripresa Non sia Come dire Alla portata Rispetto Alla data Delle elezioni Si può dire Però che Almeno Prima ancora Che individuare Responsabilità Colpe Far salire Il passato Sul banco Degli imputati Non c'è Ci si può Provare Ci si può Provare A A A Mettersi All'opera Cercando Di costruire Cercando Di costruire Una Percezione Attendibile Di futuro Perché poi La gente Vota per questo Sì Vota anche Contro Ma prevalentemente Soprattutto In riferimento A elezioni Amministrative Per governare Una città Ebbè insomma La gente Porta il suo Consenso Dove vede Che si accende Una luce Dove non vede Luce Poi vota Direttamente Magari contro Ma insomma C'è la possibilità Almeno Di Ripartire Da qui Sì La possibilità C'è Basta Fare Un'operazione Diciamo Catartica Che è quella Di prendere La realtà E guardarla Nella sua Crudità Il centrosinistra È un esperimento Politico Fallito C'è da distinguere La situazione Della città Dalla situazione Non si non è d'accordo O è d'accordo Dico Storicamente Imbrogolibili Ah è che ce ne sono state Piacere Dizioni D'accordo Voglio 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 Dizioni Mettere insieme Scusa Elio Mettere insieme La città E l'Irpinia È sbagliato Perché non Non sono la stessa cosa L'Initaly Di recente Forse è ancora in corso Il progetto pilota Con la sua Elpinia Che manifesta Imprenditori Libri Quindi Qual è La questione Della città La faglia A cui facevo riferimento Ha Questo tentativo Della sinistra Di vedere La destra Nei 5 Stelle Di Maio Salvini Togliete Salvini Vedete Zaia Vedete Maroni Vedete altri Ecco Allora Che cosa Ha portato In città A un errore Clamoroso Di 5 Stelle I quali Conseguendo Tre consiglieri Comunali Non hanno chiamato La città Al voto Noi siamo Il cambiamento Non abbiamo La forza Per farlo Vi chiediamo Di darci la forza In consiglio comunale E si sono messi A cingischiare In consiglio comunale Producendo Una tale quantità Di stronzate Che ovviamente L'hanno ridotto In difficoltà Tant'è che il sindaco Appena Eletto un anno fa Non viene ricandidato Pare In 5 Stelle Ma la cosa più deludente È la sinistra Anche la sinistra Alla quale Io ho appartenuto Perché bisognava Aprire un canale Di comunicazione Con i 5 Stelle Chiedendo Esplicitamente Di fare un'alleanza Perché adesso Se ne viene Bersani Sul piano nazionale L'altra sera In televisione E dire Che insomma Questa strada Di 5 Stelle Ma come è possibile Che un gruppo politico Che si appella Al cambiamento E al rinnovamento Non veda In Di Maio Non tirando fuori La questione del padre Dell'assunzione Non tiriamo fuori In questi ragazzi In Di Battista La voglia di cambiamento Sulla quale Noi dobbiamo salire Fermiamoci un attimo Che abbiamo finito Peraltro il nostro lavoro Però su questo Dovremmo riaprire Un discorso Sui 5 Stelle Gino Anzalone In sintonia Io ne capisco Tutti i limiti Per carità Ma noi abbiamo La realtà La realtà Questa faglia Non si fonda Sul vecchio e nuovo Si fonda Sul fallimento Delle classi dirigenti Il partito democratico Che non è stato Prodigo Di attenzione Nei confronti Proposta concreta Milano Ha superato La sua difficoltà Si è dato Un sindaco Che aveva fatto Una grande esperienza Manageriale Con l'Expo E ha fatto una cosa E ha aggregato Qua ci vuole altrettanto Abbiamo qualche personalità Capace Qualificata Che ha fatto battaglie Nel Consiglio Comunale Ha avuto esperienze Di impegno Gestionale Amministrativa Verifichiamo Sui programmi Le proposte Dove stanno Che vogliono Anzalone Per concludere Su questa cosa Dei 5 Stelle Cioè il partito democratico La sinistra Hanno sbagliato A considerarli E a vedere Il loro Come dire Un potenziale Diffuso Come Nel verso Del cambiamento Sono stati fatti Almeno tre Errore Il primo Lo fece Renzi Non si prende Il 40% Alle europee E Non ci si spaventa Immediatamente Dopo All'amoro All'amberlinguerra Per saper Unire al meglio Il partito E All'esterno Errore di Renzi Poi Velocemente Secondo Secondo errore Dopo le elezioni Il partito democratico Non doveva Né Andare al governo Con 5 Stelle Era lo sconvitto Sapeva di opportunismo Né fare Però Sono d'accordo Con Carillo Mi dispiace Mi dispiace essere Ecco Va bene Abbiamo un momento Di sincerità Un tempo Né fare L'opposizione Preventiva Che ti oppone Se sono i tuoi Se hanno il terzo Se c'è Doveva Doveva sfidarli Doveva sfidarli Sui contenuti Però c'è Un alibi Abbastanza Però Però I compagni Alla Persania Alla D'Alema D'Alema è stato Mio segretario provinciale Quando ero segretario provinciale Presidente della provincia A farmi quella Scissione Del 2-3% Ci dobbiamo fermare C'è però un alibi In conclusione Voglio dire Ma qui Dovremmo aprire Un altro giro Di rispetto C'è anche un alibi Grande quanto Una casa Che darebbe ragione A chi nel PD Non ha fatto questo Che stiamo vedendo Di tutte E di più Non avremmo E stiamo in un paese Direttore Stando per un istante Questo cambiamento Ti rendi conto Che noi stiamo Siamo nella costrizione Di dover combattere Il più rozzo Plebeo Strapaesane Bottegaio Fascismo Qual è quello Dei leghisti Rispetto a cui Mussolini Non mi Non mi si di addosso Sembra un gigante Della politica Ci dobbiamo fermare Io vi ringrazio molto Grazie Giuseppe Carillo Grazie a tutti Grazie a professor Elio Iannuzzi Grazie a Gino Anzalone Grazie ai colleghi Che hanno aperto con me Questa settimana In studio sera In studio Gianluca Cavaliere Per la documentazione Francesco Rinaldi Per la copertina Alfonso Tarantino In regia Silvana Piccariello Vi lascio al replay Della copertina E vi do appuntamento A domani Sempre in diretta Alle 17 Sempre su Prima TV Arrivederci Quelli che si preparano La campagna elettorale Per il comune di Avellino Dovrebbero cogliere Come una occasione La relazione Predisposta Dal subcommissario Franco Ricciardi Che accompagna Il piano pluriennale Di riequilibrio Otterrebbero Utilissime informazioni Su come far quadrare I tentativi Di mettere insieme Delle coalizioni E guadagnerebbero Anche qualche dritta Sull'identikit Di chi deve rappresentarle E guidarle Da candidato sindaco I numeri sono noti Buona parte del deficit Ruota intorno Ad una macchina comunale Che riesce a malapena Ad incassare Tra il 25 E il 30% Delle entrate Una parte consistente Dei 17 milioni Di disavanzo Deriva proprio Da questa inerzia Che a sua volta Trova origini In cause Sia storiche Che più recenti Professionalità Di vecchia formazione E il blocco Dell'assunzioni Per anni Sono quelle più evidenti Insieme a politiche Generali Sulla finanza locale Che hanno finito Per strozzare I comuni italiani Soprattutto nel mezzogiorno Obbligati a rispettare Standard stringenti In presenza Di minori Trasferimenti Di risorse Il piano di riequilibrio Ha un tempo massimo Di 10 anni Per essere portato A compimento Un tempo Che Avellino Non può permettersi Intanto perché Più dura Maggiori sono I rischi Di non uscirne Ma soprattutto Perché Avellino Non può consentirsi Un'altra lunga stagione Nel limbo anche psicologico Dell'emergenza Quella lunghissima Del dopo terremoto Per l'eredità Che ancora consegna Dovrebbe insegnare qualcosa Sentiamo già Le prime parole D'ordine Della prossima Campagna elettorale Molte delle quali Inseguono retoricamente Il passato Quasiché collocandolo Sul banco degli imputati Risolva i problemi Quando sarebbe invece Necessario Sentire Chi spiega Come si bruciano I tempi Per rivedere Alla portata Uno spiraglio Di futuro La sfida Tra vecchio e nuovo Serve a fare Un po' di baldoria Elettorale Quella che Avellino Merita È tra la competenza E l'incompetenza Se non si riparte Da qui Tutto il resto È inutile grasso Che cola Questo programma È offerto da Make Solution Olio basso Fedele nel gusto Neuromed Lloyd's Buy Hotel Vietri sul mare Design in luce Emporio del caffè